Ciao a tutti i miei amici di Santina, siamo qui a Vita Princesa, prima eravamo alla discarica. Questi bellissimi bambini, questi tre bambini, sono i primi tre bambini battezzati nella cappellina che abbiamo costruito noi come Fondazione Santina. Potete vedere il logo sulla parete. Questa cappellina è stata dedicata a Donato e Giuseppina Daniello, il papà e la mamma di Sua Eccellenza, Monsignor Giovanni Daniello. Questa sera il vescovo non è potuto venire qui con noi, ma abbiamo celebrato la mia ultima messa e sono contento che la cappellina ha potuto portare questi tre bellissimi frutti di questi bambini. La tuppellina e la Sofia, che è stata con me durante tutta la messa, a voi in Italia vi mandiamo un saluto. Ciao!